I documenti fossero tutti fatti, con i presunti esaminatori, una truppa che è la stazione monetaria di Roma, 8 i membri della banca. Ma semplicissimo, sono tutte le istruzioni perfette. E non esce più. Spero che non faccia tanto rumore. Sembra di no. La rivista di Milano, direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano, benvenuto professore. C'è anche questo tool che... Rock and roll. Questo è da mettere su uno zaino, magari anche sul telaio, adesso non so in che modo. Due, due e mezzo, tre, quattro, cinque, sei, ce l'hai, fino alla otto a brugola. Torx 25, cacciavite a croce. Diciamo che in montagna te la cavi. Versione nera e versione arancio. Andiamo a provare dopo, vediamo se fa troppo rumore nel manubrio oppure no. Pensavo facesse un po' di rumore. Però devo dire che non si sente niente. Prendendolo in mano ha un peso un po' forse elevato, però perché comprende anche il blocco della serie sterzo. Quindi... E' comodissimo. E' qui... Granite di... Non male per niente, veramente. Promosso a tutti gli effetti. Si porta dietro tutto lì, non si pensa più a nulla. Grazie. Grazie.